ok ciao ragazzi oggi metteremo mano un pochettino a questo cipresso questa è una pianta che coltivo da 13 anni da seme in questo periodo è buona cosa cercare di tenere controllata la pianta bilanciando il vigore della nuova vegetazione praticamente andiamo ad accorciare nuovi butti facendoli diventare grandi come quelli piccolini importante fare questa operazione regolarmente perché se no andiamo a rischiare che scarti la vegetazione dentro per fare questa operazione uso forbicina basic è una forbice a punta si entra bene nella vegetazione è veramente l'ideale io consiglio sempre di partire dai primi rami perché ci aiuta molto a trovare già le giuste distanze poi con gli altri rami che stanno sopra naturalmente visto che ci siamo diamo anche una pulita sotto a tutti i profili perché è buona cosa far vedere il legno dei palchi per dare quel senso di maturità alla pianta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti allora praticamente quando andiamo a fare i profili della pianta dobbiamo semplicemente togliere tutta la vegetazione che va verso il basso così da ottenere un livello di rifinitura ottimale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti bene ragazzi il primo ramo è stato finito adesso vi faccio un primo piano per vedere la differenza fra il secondo ramo che ancora devo andare a toccare e il primo che praticamente è stato rifinito è stato rifinito grazie a tutti